E adesso riderete con la sottoscritta! La sottoscritta! La sottoscritta! La sottoscritta! La notte delle signore del Topo Club è stata offerta da... Noleggio a un principe! Camalieri in armature splendenti mattino, pomeriggio e sera! Agognate gesta eroiche e approfittate del nostro pacchetto da amigelle in disgrazia! Noleggio a un principe! Vivrete felici per sempre o verrete rimborsate! Certi principi potrebbero essere dei rosti! Noi ci vediamo presto!